Silvana facciamo vedere subito la tua sorpresa, vogliamo fare lì, allora Silvana vi deve dire una cosa per i vostri bambini, ed è questa cosa qua, bisogna seguire Silvana dove, come si chiama? Su il mio canale che si chiama Sivi Zammarchi. Esatto, è il mondo di Sivi. Sì. Hai già 34 iscritti, giusto? Sì. Fa delle storie che magari facessi delle storie io così, quante mila hai raggiunto? In questo periodo, una marea di gente, mi ricordo, hai avuto delle storie addirittura da qualche migliaio di persone, tra l'altro ci siamo anche noi che facciamo, come si chiama già il film, quello che abbiamo usato, Squid Games. Sì, Squid Games. Lì abbiamo preso un sacco di views, un sacco di follower. Insomma, se volete dire ai vostri bambini di seguire Silvana, il mondo di Sivi, il mondo di Sivi su YouTube, ok? Sono 50 euro, grazie per la pubblicità. Grazie, baby. Venga. Bene, 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 bene. A questo punto Silvana, di cosa parliamo? Stasera parliamo di come gestire una richiesta di preventivo. A te se ti arriva una richiesta di preventivo, come ti comporti? Sai che cos'è una richiesta di preventivo? No. Come no? No. Beh, allora cosa ci fai qui con me? Eh? Hai studiato? Sì. Sì? Ok, ok, bene. Quando arriva una richiesta di preventivo, tu ovviamente fai come Alberto, fai come Davide, fai come Jump. Cosa fai? Uno ti chiede un preventivo e tu gli rispondi col pre... Presente. Col preventivo. Preventivo. Sbagliato. Sbagliato. Eh? Perché tutti noi fotografi, ma forse gli hacker VIP che mi seguono lo sanno già che non si risponde mai a una richiesta di preventivo con un preventivo. Però questa sera ripassiamo. Se intanto vuoi giocare col tuo tablet? Eh? Sì? Cosa fai te adesso? Gioco. Giochi? A cosa giochi? Prima che io inizi la live, dimmi a cosa giochi. Gioca ai disegni. Ah, fai ai disegni. Ok, allora fai un bel disegno così alla fine della diretta facciamo vedere cosa hai fatto. Ok? Good. Bene. Allora ragazzi, adesso parliamo di cose serie. Sono le 21.03, 7 dicembre e ci siamo. Ci siamo e parliamo di un contenuto che è sempre al centro per noi fotografi perché tutti noi cerchiamo, non dico che scattiamo, ma cerchiamo di scattare al meglio, cerchiamo di fare i migliori video che possiamo realizzare con la nostra capacità artistica. Ma molto spesso abbiamo due blocchi, noi fotografi, noi artisti, diciamoci artisti o artigiani digitali. Il primo blocco è quello che non riusciamo a dare valore alla nostra arte, proprio per il fatto che le facciamo noi le nostre foto. Io ricordo sempre, anche quando eri in Brasile, che facevo dei matrimoni da favola con delle foto stupende, ma anche solo perché la location era meravigliosa, io a fine matrimonio riguardavo le mie foto e dicevo, ho fatto uno schifo anche oggi. Poi magari le riguardavo dopo una settimana e dicevo, cavoli, belle queste foto. Ecco, noi facciamo fatica a valorizzare il nostro stesso lavoro, prima cosa. Seconda cosa, noi andiamo in difficoltà nel momento in cui dobbiamo vendere il nostro valore, le nostre fotografie, perché prima di tutto siamo degli artisti e di solito arte e vendita vanno su due strade parallele. Quindi, quando ci arriva una richiesta di preventivo, è importante applicare quello che Wedding Revolution, piuttosto che altri bravissimi formatori, descrivono come un protocollo. Anche noi in hacker abbiamo un protocollo che, magari a differenza di chi l'ha creato un po' artificialmente, in uno stile un po' universitario senza averlo mai testato, noi ci abbiamo sbattuto la testa tante e tante volte su come gestire al meglio una richiesta di preventivo. Negli anni siamo passati, io in prima persona, da scrivere delle meravigliose encicliche papali via mail, in cui descrivevo per filo e per segno il nostro lavoro, a una richiesta di preventivo, addirittura cercando di personalizzarle in base alle informazioni che ricevevo, fino ad arrivare a richiesta di preventivo e bam, telefonata immediata. Ecco, questo cambiamento che abbiamo fatto, chi mi segue nei nostri percorsi a Kervipo o nella nostra formazione ad hoc, lo so bene che non fa più questa cosa qua. Cioè, non appena ti arriva una richiesta di preventivo, la prima cosa che tu devi fare è innescare una relazione, perché noi siamo dei professionisti che raccontano storie d'amore, raccontiamo storie d'amore, raccontiamo storie di famiglia, raccontiamo storie di aziende, raccontiamo storie di matrimonio, storie di bambini piccoli che vengono a fare le foto da noi. Quando è venuto Babbo Natale in studio, ti sei divertita? Perché noi abbiamo avuto il vero Babbo Natale, giusto in studio, il The Original, il vero Babbo Natale che si chiama? Tiziano. 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 Dovete sapere, dite alle vostre anche bambini, che abbiamo scoperto che Babbo Natale si chiama Tiziano, è venuto da noi a provarci. Ha due nomi. Ha due nomi. Babbo Natale e Tiziano. Ecco, quindi quello che vi voglio dire è innescate una relazione con i vostri clienti, se hanno bambini cercate di muovere le emozioni da genitori, se sono una coppia innamorata fateli sognare come riuscirete a raccontare il giorno più bello del loro matrimonio, se hanno un'azienda fate sì che diventi così bella da essere apprezzata da clienti, fornitori, partner. Insomma, questo è il segreto per avere successo quando si ha, non è il segreto per avere successo, questo è un po' troppo da Marchettaro, è una formula che aumenta di brutto la probabilità di ottenere un contratto firmato dopo una richiesta di preventivo. E allora, la risposta, e siccome questa diretta l'ho fatta per Davide Schiaratura che ci aveva chiesto appunto di avere un po' di informazioni su come anche uscire dalla guerra di prezzo, caro Davide, tu hai già fatto un bootcamp, anzi forse più di uno se non ricordo male, hai già fatto un po' di formazione con noi. Mi raccomando, io so bene che tu scatti nei matrimoni, scatti bene, poi siamo anche vicini di caso perché tu sei, se non ricordo male, in zona brisighella. Mi raccomando, innesca sempre una relazione. Lo so, creare una relazione non è facile, però cerca di far parlare i tuoi clienti, agganciali, farli parlare dell'evento che tu devi fotografare e non ti preoccuparti di disturbarli. Perché nel momento in cui un cliente ti chiede un preventivo, comunque anche se matrimonio.com te l'ha mandato anche a te che sei simile al fotografo che loro amano, oppure se te l'ha mandato attraverso Instagram al volo per un newborn ma poi sta guardando anche altri fotografi, non ti preoccupare di quello. Di certo un fotografo, un cliente ha bisogno del matrimonio, nel caso in cui sia su matrimonio.com, di sicuro un cliente che ti chiede un preventivo per un newborn, di sicuro ha bisogno di un newborn, a meno che non sia stordito, ma quello è un altro discorso. E allora nel momento in cui tu intercetti una richiesta di preventivo e anziché parlare, bravo Davide, facci avere anche un po' di feedback se hai migliorato le tue relazioni con gli sposi nel momento in cui hai applicato questo protocollo di hacker photographer. E nel momento in cui tu allacci la relazione, il prezzo diventa secondario. Perché? Perché me lo diceva anche la Ellen proprio oggi, no? Che in pratica lei aveva, era in Brasile, vi racconto una storia della mamma quando aveva 19 anni e c'era, c'è la storia di un signore, pensa, che era molto molto povero, che vendeva l'acqua per strada. E questo signore, ascolta bene la storia Silvana, anche te che è interessante, era insieme a tante altre persone povere, no? Che vendevano l'acqua, che è un prodotto molto molto economico, e la vendeva ai turisti che giravano per strada in Brasile. E allora, quando arrivava un turista, la prima cosa che facevano i suoi amici era, tieni l'acqua, compra l'acqua, compra un reais, un reais, toma agua, toma agua, ok? Invece lui cosa faceva? Rimaneva sempre in disparte e si approcciava con gentilezza i turisti chiedendo da dove venivano, che cosa facevano nella sua città, che era la città della mamma dove siamo stati anche noi a Salvador, e racconta questo aneddoto. Lui era talmente povero, questo signore che adesso è milionario, pieno di soldi, era talmente povero che non aveva mai girato per il Brasile, però aveva trovato un escamotage dove chiedeva, ma ciao Silvana, da dove arrivi? E la Silvana, tu avevi, all'epoca avevi due anni, facciamo due anni. Allora chiedeva, ma tu da che città arrivi? E questi signori dicevano da Fortalesa, e lui non sapeva neanche dove fosse Fortalesa, sapeva che era in Brasile e non l'aveva mai visitata. E praticamente lui diceva, sì Fortalesa la conosco bene, per quella chiesa in centro molto bella, non aveva mai visto una chiesa, però era talmente scaltro e furbo, che aveva capito che praticamente in ogni città, soprattutto in Italia, c'è una chiesa al centro della città. E questo era una sciocchezza che serviva a sciogliere il ghiaccio e a farsi ricordare nei giorni seguenti. E incredibilmente, poi aggiungo il fatto che lui si vestiva anche in un modo un po' più decoroso, pur essendo molto povero, era sempre ben pulito, cercava di essere profumato, ben vestito, a differenza degli altri che erano comunque degli homeless, dei senza tetto come lui peraltro, la sua grande capacità di empatia, la sua grande capacità di differenziarsi, attenzione, dagli altri, suoi simili peraltro, suoi simili, quindi gli altri non avevano un vantaggio e nemmeno lui, ma lui si è ritagliato il suo vantaggio, lui creando la relazione con queste persone, cosa succedeva? Che anche la Ellen nei giorni successivi si ricordava di lui e andava da lui a prendere l'acqua. Ci conosce ancora? Sì, si sono sentiti l'altro giorno e, malgrado tutto, lui era odiato ovviamente dagli altri venditori di acqua, perché non vendevano per niente e piano piano ha diversificato, grazie alla sua empatia, il suo lavoro, iniziando a fare la guida turistica, iniziando a fare piaceri a turisti, a tour operator, eccetera, eccetera, e piano 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 è diventato un fenomeno. Non a caso è ritenuto un grandissimo venditore questo signore. Vabbè, questo è solo un esempio di come si crea maggiore relazione e maggiore empatia e si ottengono maggiori contratti, nel caso di questo signore vendere acqua e poi scalare la strada del successo, semplicemente non focalizzandosi sulla vendita, sul nostro prodotto, sulle foto, ma vendendo un'emozione, agganciandosi alla conoscenza delle persone. Soprattutto in un mondo così ormai digitalizzato, nel quale la fa da padrone questo oggetto qui, questo oggetto qui. E ve lo dico perché prima stasera non c'è Ellen, che è fuori con il nostro figlio Brain, il nostro secondo figlio, a una cena di scuola. Io a un certo punto ho iniziato a alzare la musica Tutto Volume con Alexa, abbiamo ascoltato Tuvo Fa Americano, abbiamo ascoltato un po' di brani così simpatici, da fare anche un po' di storia dell'Italia e questa cosa qua ha lasciato il posto alla relazione umana e ci siamo divertiti, ti sei divertita di più col tablet, con i tuoi giochi o a ballare? A ballare. Ok, sarà meglio, se ti sia col tablet io potevo spegnerla diretta. Sì. Ok, quindi la relazione prima di tutto. Ecco, Davide dice, certo, soprattutto dopo aver allacciato la relazione e dato loro il preventivo. Sì, ok, ok. Però, però, oltre a questa parte qua, ragazzi, io so bene che c'è un tema scottante, cioè Fulvia, ad esempio, potrebbe dire, non è più il suo caso perché la Fulvia va alla grandissima rispetto a un paio di anni fa in cui era in un momento in cui diceva ho bisogno di fare chiarezza. Ecco, Fulvia oggi ha fatto chiarezza. Però giustamente anche Fulvia potrebbe dire sì, però quando mi arriva il cliente molto spesso mi chiede il prezzo, molto spesso fa confronti, molto spesso non riesco a far apprezzare la mia arte. Ebbene, non è che state sbagliando qualcosa con questi clienti che vi hanno chiesto un preventivo. O meglio, se, diciamo così, non create la relazione, come vi ho detto fino adesso, sicuramente potete migliorare del 200% la probabilità di chiusura di preventivi. Ma è importante fare anche un'altra operazione, ragazzi e ragazze, che è l'operazione di attrazione dei clienti giusti. E per questo il mondo dei social è il mondo migliore. Facebook, Instagram e poi tra un po' con questi qua, questi giovanotti su TikTok, perché Edoardo, tipo mio figlio, ha 12 anni e fra 7-8 anni sarà maggiorenne e probabilmente se vorrà fare delle foto lui vi troverà su TikTok. Così come tante ragazzine di 16 anni, fra 7-8 anni, hanno 23-24 anni, se si innamorano e trovano l'uomo della loro vita, si sposano e magari cercano il loro fotografo su TikTok. Oppure vedranno una tua sponsorizzata su TikTok. Però, a parte il social specifico, il tema fondamentale che dice sempre Ellen, e l'ho detta anche l'altro giorno, nell'altra diretta della scorsa settimana, vendi ciò che pubblichi. Se non pubblichi con costanza, non vendi niente. E allora, non essere sui social significa essere invisibile. E il vuoto che lasci, purtroppo, viene colmato dai tuoi concorrenti. Poi, seconda cosa, nel momento in cui tu pubblichi, vedrai che se pubblichi delle foto di matrimonio, come fa Marco Lorenzi di Foto Twins di Schio, provincia di Vicenza, che ha iniziato a pubblicare a tutto fuoco foto del lago di Bryce, di Trash the Dress, foto in montagna di sposi, Trash the Dress, Trash the Dress, Trash the Dress, dai che ridai, dai che ridai, la goccia scavato nella roccia, e adesso lui è diventato un punto di riferimento sul suo territorio, e non solo per le foto di matrimonio, con abbinato il servizio Trash the Dress. E allora, il mio consiglio che ti do è quello di costruire prima di tutto il tuo brand. Lo so, è un percorso lungo, tu vorresti, e sarebbe fighissimo, lo vorrei aver avuto anch'io un percorso così lento, no? Un percorso nel quale tu dici, ok, mi arrivano le richieste di preventivo, sono già in target, creo la relazione, faccio la vendita, mi cassino i soldi, scatto, mi diverto, faccio il portfoglio, pubblico nuove foto, arrivano nuove richieste di preventivo, sempre più in target, e via andare. Bene, ma la parte iniziale in cui devi iniziare a far girare questa ruota, ragazzi, è super impegnativa e richiede tempo. Roma non è stata costruita in un giorno, ahimè. Non è stata costruita in un giorno, però tutta questa fatica, lo può dire Fulvia, lo può dire Giampaolo, ho visto la Donatella online, insomma. Persone che hanno seguito questo percorso, che non è un percorso di hacker, è il percorso della vostra vita, della vostra professione, che sia il percorso di hacker, il percorso con Eugenia Giada, il percorso di Wedding Revolution, non conta quella cosa lì. Conta il fatto che tu stai seguendo un tuo percorso di trasformazione, che sai benissimo non accadere, non avvenire in solo tre mesi, sei mesi. Ci vogliono 18, 24 mesi. Nel caso di Davide Schiaratura, per il quale appunto dicevo, ho fatto questa diretta, tu Davide adesso dovresti essere in una situazione in cui vedrai nel 2023 l'inizio della raccolta dei frutti, se hai fatto bene tutti i tuoi passaggi. Se ancora farai fatica è perché probabilmente, e può succedere perché è successo anche a me, non hai fatto tutti i passaggi per bene. Ma lo sai perché? Per un semplice motivo, che quando si inizia un percorso, la strada è un sali e scendi continuo. E quando si scende, il nostro morale va giù. E quando il nostro morale va giù, noi facciamo fatica a continuare a credere nel nostro percorso. A volte abbiamo dei dubbi. Ci stiamo chiedendo se quello che stiamo facendo non sia tutto tempo sprecato. È in quei momenti che è molto importante avere un gruppo di pari, avere un mentore come me o come altre persone autorevoli sul mercato italiano nella fotografia, che vi prendono per mano e vi dettano il tempo, vi tengono come quando ti devi mettere in forma e prendi un nutrizionista, un personal trainer. Ecco, loro ti tengono sul percorso, perché a volte puoi sgarrare, a volte puoi perdere la tua determinazione, ma il mentore, il gruppo di pari, ti tiene focalizzato sull'obiettivo, soprattutto nei tuoi momenti difficili. E allora, dopo leggo anche te Alberto, anzi ti leggo subito, Alberto Caputo, io sto soffrendo un po' il cambiamento, ma quel poco che ho fatto finora mi ha già dato soddisfazione. Finalmente propongo il prezzo che voglio io, non quello che vogliono loro. E allora, tu sei anche troppo umile Alberto, perché se volessi dire la quantità di battesimi, se non ricordo male, erano i battesimi che tu hai chiuso, farebbero invidia a molti fotografi, te lo assicuro, quindi assolutamente. Però il bello è quello di rimanere sempre umili come Alberto. Il consiglio, e veniamo a una parte pratica, oltre avervi dato il consiglio pratico di creare la relazione subito e di non scrivere, ma telefonare. La parte pratica che ti voglio lasciare qui su questa cosa, su come creare il brand, è la seguente. Usa Facebook e Instagram in questo momento. Facebook e Instagram stanno attraversando un momento d'oro. D'oro come non accadeva da inizio del 2021, che poi si è trasformato in un semidisastro, e poi ci serve da approfondire un po' più il discorso. Però il concetto è che Facebook e Instagram in questo momento hanno ripreso tanto, tanto engagement. Perché? Perché subiscono la concorrenza di TikTok, di YouTube, di questi nuovi social, e quindi Zuckerberg ha riaperto un po' i bocchettoni dell'engagement, c'è più engagement, non so se l'hai notato. Le sponsorizzate funzionano molto meglio. Ma la cosa che ti voglio dire è che i nostri clienti ad oggi sono prevalentemente su Facebook e Instagram, e questi strumenti sono, questi canali, sono dei canali, segnatelo bene, lo dico piano perché se capisci questo vinci, sono dei canali full funnel, ok? I canali full funnel cosa vuol dire? Che cos'è un funnel? Adesso te lo spiego brevemente. Un funnel è un imbuto che raccoglie tanta gente che potrebbe essere interessata a te, tu la interessi in un qualche modo, questa gente si avvicina a te, inizia a capire, a scoprire che sei in gamba a farle foto e che potresti essere utile un giorno se si sposeranno, un giorno se avranno un figlio, fino ad arrivare alla punta del funnel in cui il tuo cliente ideale ha fatto tutto il percorso di conoscenza del tuo brand, è arrivato a fissare ad esempio la data del matrimonio, oppure è rimasta incinta, oppure è l'anniversario dei vent'anni dell'azienda, bene, in quel momento lì il funnel si completa, quindi hai beccato il cliente dalla inconsapevolezza di aver bisogno un giorno di un fotografo, ma hai iniziato a seguirti. A un certo punto ha cominciato a dire, cavoli, belle le foto che fa questo fotografo, fino al giorno della consapevolezza, in cui magari anche dopo un anno, sei mesi, a volte due anni, a volte dopo due settimane, questa persona è consapevole di aver bisogno di un fotografo e si ricorda di te. Questo è possibile farlo quasi solo ed esclusivamente con Facebook e Instagram, perché grazie alle sponsorizzate Facebook Ads tu riesci a conquistare dei clienti nel momento in cui essi sono su Facebook e Instagram e ti vogliono conoscere per la prima volta, magari attraverso un tuo slideshow fotografico che sponsorizzi, con l'obiettivo visualizzazione video. Poi queste persone che hanno visto il video, magari tu le ritargettizzi in un secondo momento dicendo, guarda, solo quelli che hanno visto 10 secondi del mio video, il 50% del mio video, solo a loro faccio vedere magari un approfondimento, faccio vedere una recensione di un mio cliente e queste persone che rimangono agganciate a te magari ti lasciano l'indirizzo email in cambio di, che ne so, un buono del valore del 10% su un giorno, su una tela per un loro servizio fotografico, per un album di matrimonio, per l'album dei genitori, insomma, potresti creare un ebook su come scattare foto con il telefonino anche nel giorno del matrimonio che siano impattanti in modo tale da essere pubblicate subito nelle stories nel giorno stesso. Le 10 regole per foto emozionanti con il tuo smartphone nel giorno del tuo matrimonio. Ecco cosa devi fare, ok? Queste cose qua siano ad esempio a creare una relazione, a trovare i contatti di queste persone e quando avranno bisogno di te si ricorderanno di te e il cosiddetto empathy flow, eccoci, di Fulvia, brava Fulvia, il tuo famoso empathy flow e peraltro Giuseppe entrerà nel tuo business manager credo dopo domani, domani te lo sistema quella cosina che c'è, che non sta funzionando, l'empathy flow di Fulvia che è quella sponsorizzata Facebook che noi insegniamo in Hacker VIP a chi ti segue, ecco, quello ha fatto chiudere diversi servizi ad esempio a Fulvia, ok? Bene, 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 bene. Allora, leggo un commento di Alberto poi vi dico una cosa importante, Instagram, TikTok e Facebook mi hanno dato risposte positive anche se ci devo lavorare ma sono canali costantemente in movimento anche se mi impegnano un po' di tempo, sì, bisogna imparare, caro Alberto, questo che ti ho appena detto, a far lavorare anche un po' le automazioni, mettere un budget, io dico, di 150 euro al mese, almeno per iniziare, che però ti tornano in tasca in visibilità e ti torna in tasca in preventivi, non dico dopo 30 giorni, di solito è così, ma al massimo nei primi tre mesi tu fai un investimento come vedi, dico, ti ho detto, no, 450 euro che ti torneranno, questo te lo posso garantire, sottoscrivere e molti di voi lo sanno, torneranno con nuove richieste di preventivo e contratti firmati. Bene, io intanto che faccio un po' di cazzeggio creativo vi spiego un po' cosa voglio fare da qui a Natale, volevo dirvi che mi potreste proporre il contenuto della prossima diretta, perché, e scrivetemelo nei commenti, se avete qualcosa di cui parlare, anche qualcosa di tecnico, qualcosa di specifico, io voglio fare un po' di dirette utili per aiutare noi fotografi in questo momento in cui facciamo veramente fatica ad essere aiutati da il governo, non ci sono più incentivi covid, se qualcuno li ha avuti, bene, le banche hanno chiuso un po' più i laccetti con i finanziamenti, il costo dell'energia elettrica è cresciuto, il costo dei nostri prodotti è cresciuto, il muoversi se facciamo matrimoni la benzina è cresciuta di più, insomma, se posso esservi utile io voglio fare una sequenza di dirette da qui a Natale e sfociare anche a Gennaio che siano utili per noi fotografi ma per essere utili ho bisogno del vostro supporto scrivetemi davvero che cosa vorreste sentire nelle prossime dirette e io lo farò con molto piacere e intanto che aspetto i meno timidi che mi scrivono vi dico che la prossima diretta Silvana la facciamo la vuoi fare con me? allora la prossima diretta sta un po' complesso perché la prossima settimana sono in giro tra Roma Milano e sono un po' in giro però però potrebbe essere il giorno buono Sivi che ne dici? potrebbe essere venerdì 16 oppure addirittura potremmo farlo lunedì 12 allora vediamo un po' così lo facciamo venerdì 16 però venerdì 16 non lo facciamo alle 21 ma perché se la mamma vuole uscire poi dopo ci sgrida giusto? eh? vuoi mai che dopo ci sgridi lo facciamo venerdì 16 alle 19 ci sei tu alle 19? sì alle 7 di sera? cosa fai? hai degli impegni? devi fare i tuoi video? giorno venerdì prossimo ci sono ci sei? promettilo prometti che ci sei promesso così promesso promesso diretta hacker youtube allora ok però vediamo se qualche d'uno ci fa delle domande ok come ottimizzare le sponsorizzate come ottimizzarle al meglio mi piacerebbe una diretta sul tema real ok allora andiamo in ordine io direi di fare una cosa se sei d'accordo dunque parliamo di sponsorizzate su facebook e instagram il prossimo venerdì anzi invito anche Giuseppe che è uno dei nostri guru delle sponsorizzate adesso lo invito già chissà se vuole partecipare ok e in quella diretta vi spiegherò come noi utilizziamo dal punto di vista macro quindi della strategia le sponsorizzate facebook e instagram per coinvolgere tante persone sul territorio hai sonno? e portarle nei nostri studi a fare le foto abbiamo finito dai sono le nove e mezza e questa è la prima cosa la seconda cosa Fulvia quello che possiamo fare invece nel nostro caso di hacker vip è portare nella nostra community di hacker vip il mio studio fotografico di media per il discorso dei reel perché di media in questo periodo sta facendo una pubblicazione di reel che hanno avuto davvero davvero successo e allora magari invito Jessica o qualche d'uno del mio staff della di media e vediamo di spiegarvi un po' come montiamo con reel qualche segreto perché vi dico la verità io do gli indirizzi dico ho detto ai ragazzi guardate che nell'ordine c'è il feed ci sono le stories e ci sono i reel i reel sono quelli che hanno più visibilità ad oggi e allora giù i reel ma tecnicamente col fatto che non faccio più tutte le cose io è meglio farsene sempre raccontare da chi fa le cose non dai fuffaroli ma da chi fa le cose ok quindi ci vediamo venerdì 19 buonanotte ho già sbagliato venerdì 16 alle ore 19 facciamo una diretta sulle facebook ads e vi dico questo per favore divulgate sta cosa qua ai vostri amici colleghi fotografi solo fotografi è vero che queste dirette potrebbero essere anche utili a un estetista a una parrucchiera perché ad esempio le facebook ads indubbiamente possono essere anche utili per loro quindi se avete un vostro compagno vostro marito vostra moglie che lavorano in un settore locale e hanno bisogno di maggiore visibilità fateli partecipare anche a loro ma soprattutto divulgate il messaggio anche nelle community che ci sono queste dirette che facciamo per cercare davvero di svalicare questo 2022 affrontare il 2023 con una maggiore sicurezza in noi stessi andando a condividere storie che funzionano strategie e tattiche che portano ancora oggi tanti tanti clienti ai nostri studi perché vi dico la verità abbiamo fatto un Natale record nuovamente con Ellen per il Natale abbiamo fatto un altro 2022 incredibile di matrimoni e il 2023 sarà ancora eccezionale malgrado l'effetto covid sia praticamente sparito le aziende un po' in giro per l'Italia continuano a chiamarci per creare contenuti foto e video quindi le cose funzionano tra l'altro ci sono diversi hacker da Michela Amati di Roma a Luca Laversa di Milano che hanno già lavorato insieme a me perché ho passato l'ora dei clienti aziendali non si sa mai che non si crea anche l'opportunità di lavorare assieme ok vi auguro una buona serata spargete la voce grazie per l'attenzione e mi raccomando mi raccomando dite ai vostri bambini di seguire Il Mondo di Sivi che si chiama Sivi Zammarchi esatto in realtà il tuo canale si chiama Il Mondo di Sivi perché si chiamava Sivi Zammarchi ma la mamma te l'ha cambiato così ok salutiamo ciao un bacino che porta fortuna ciao ciao